L'assessore regionale all'ambiente, Claudia Terzi, qualche giorno fa si è recata a Retorbido per incontrare le amministrazioni locali, le categorie produttive e gli esponenti del comitato no inceneritore. Al momento il risultato è o nulla di fatto. Una commissione di tecnici predisposta per effettuare alcune verifiche è al lavoro, ma in Regione Lombardia l'iter per l'installazione dell'impianto prosegue secondo quanto previsto dalla legge. Intanto, lei è favorevole o contrario all'installazione di questo impianto? Io sono molto contrario all'installazione di questo impianto, anche perché i miei genitori abitano vicino e so per certo che farà male alla salute e ci saranno vari problemi se fanno questo impianto. Secondo lei come andrà a finire? Se riuscirà ad evitarne l'installazione oppure no? Io sono speranzoso, spero di sì, anche se ci sono poteri forti che remano contro, cioè che remano per fare l'inceneritore. Per esempio? Politici, gente che sta bene economicamente. Secondo lei ci sono interessi economici non dichiarati? Questo chiaramente, sì, sì, penso proprio di sì. Non lo dicono, ma è così, lo sappiamo tutti, è inutile che ci prendano in giro. Non siamo nati ieri, però combatteremo fino alla fine per far sì che non lo facciano. Allora se dovesse riuscire ad evitarne la costruzione, secondo lei chi sarà determinante in questo? Determinante è evitare la costruzione. Noi cittadini, noi che abitiamo lì, dobbiamo proprio andare contro a questo progetto. Contraria. Contraria? Sì, sì, anzi faccio parte anche del gruppo non-inceneritore. Quando ci sono state le manifestazioni sono andata anche a manifestare perché vabbè, prima di tutto per la salute e poi anche per l'economia dell'oltrepo è veramente un disastro. Secondo lei si riuscirà ad evitarne la costruzione nel concreto veramente? Io spero di sì. Chi sarà determinante qualora si riuscisse ad evitare la costruzione di questo impianto di Birolisi? Ma sicuramente fino adesso ha fatto tanto anche le manifestazioni che si sono svolte a livello locale e poi speriamo che per una volta non preferiscono l'economia alla salute. Comunque anche lei pensa che ci siano interessi economici? Sicuramente. Anche non dichiarati? Probabilmente, come tutte le cose che girano un po' tra la politica e l'economia, secondo me siamo lì. È soddisfatta dell'impegno che ci sta mettendo l'amministrazione locale a Retorbido e a Voghera? Guarda, onestamente in questa cosa sono un po' ignorante. Sono soddisfatta dell'impegno che ci sta mettendo la gente più che altro. La cittadinanza che è unita? Sì, 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 questo sì. E i tanti magari anche dottori che si prodicano con i vari trattati, le varie ricerche per vedere quello che poi può essere l'effetto della pirolisi sulla salute. Io personalmente per quanto riguarda sia me che i miei genitori, ma anche parenti che conosco, nelle vicinanze siamo tutti i contrari proprio per quanto riguarda le eventuali conseguenze a livello di salute che possono presentarsi. Proprio perché per quanto siamo stati rassicurati da tante persone che conoscono anche come funzionano questo tipo di impianti, non credo che sia una buona idea per i paesi vicini e per Voghera in primis. Secondo lei si riuscirà ad evitare che questo impianto di pirolisi venga bloccato, non venga costruito? Non credo perché credo di aver letto ultimamente una di queste ultime notizie nell'ambito dei quotidiani locali che dicono che ormai non è più possibile fare un passo indietro. Mi auguro che ci sia una soluzione a tutto questo e che si possa sempre rivedere questa posizione. Penso al di là di tutto che comunque sia fatto questo tipo di impianto dovrebbero comunque cercare proprio in nome dell'ecologia di realizzare impianti quanto più sicuri possibili con più norme che si avvicinino alla sicurezza totale. Per concludere, qualora si riuscisse a non costruire l'impianto, chi sarà determinante? Io penso che tutte le autorità locali dovrebbero convergere per cercare di fare un ottimo lavoro da questo punto di vista, per cercare proprio di fare un lavoro in unione con tutti anche magari anche penso norevoli di Milano o di persone importanti, Pavia e provincia ma direi anche Milano e anche a livello nazionale, fare questo tipo di lavoro. Ecco proprio di massima unione in questo senso.